Danilo Toninelli, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anzitutto, lei è ricandidato? Io sono sì, mi sono candidato al Senato che ho rispettato l'over 40, avendoli superati nella mia prima legislatura ai 40 anni e nelle votazioni sono stato nel mio territorio di residenza il più votato. Piccolo inciso, l'unica forza politica che fa decidere i propri iscritti, chiunque può essere iscritto al Movimento 5 Stelle, basta non essere un condannato, un pregiudicato, può scegliere chi mandare in Parlamento. Gli altri, purtroppo, li stanno scegliendo a tavolino e risponderanno quando andranno in Parlamento ai capi e non ai cittadini, ed è grave per la democrazia. E soprattutto basta non dire più parolacce, questo si legge nella nuova normativa e nel nuovo regolamento del Movimento 5 Stelle per i candidati, quindi basta vaffanculo, al massimo stupidotti. E' simpatica questa. No, no, allora, il vaffa, noi ce l'abbiamo nel nostro, scorre dentro, nel senso che fin tanto che la classe politica continuerà ad essere autoreferenziale, che significa, continuerà a pensare a se stessa, al rinnovo delle poltrone, ai finanziamenti pubblici che riceve, alle donazioni dei lobbyisti, e quindi a fare la bella vita da cassa, con il vitalizio in tasca, il vaffa noi ce l'avremo sempre, perché è il vaffa che i cittadini ci hanno dato come consegna da portare in Parlamento. Devo anche dire ovviamente che, oltre a questo, in questi cinque anni abbiamo costruito tante cose che oggi stiamo presentando in tutta Italia. Il mio collega Gianmarco parla difficile, parla di paradigmi, eccetera. In realtà, a campagna elettorale... Sì, volevo darmi un tono, inutilmente. Sì, sì, questa campagna elettorale, in realtà, secondo me, sembra un po' come quando devi andare a cambiare l'operatore del telefono e non sai cosa scegliere e guardi tutte le offerte, impazzisci di notte per cercare di capire quale sia quella conveniente, perché, Torinelli, tutti promettono tutto, è la campagna elettorale delle grandiose promesse, erano decenni che non si vedeva una cosa del genere. Anche voi ne fate tante, che costano. Poi vediamo con lei di cosa si tratta stamattina e poi dove trovate le risorse, perché naturalmente alcune di queste promesse sono impegnative. A cominciare dal reddito di cittadinanza, che secondo voi è uno dei cardini dello sviluppo futuro del Paese. Come funziona questo reddito di cittadinanza per come lo immaginate voi? Prima volevo dire a chi ci ascolta di guardare la credibilità delle persone che fanno le promesse. Cioè, da una parte c'è un Berlusconi che propone di abbassare le tasse, l'ha fatto nel 94, nel 98, nel 2001, nel 2008, nel 2013. Non l'ha mai fatto. L'unica cosa che ha fatto sono condoni. Credibilità, vero. È un super evasore fiscale condannato in via definitiva. Solo in 4 anni ha fraudato il fisco di 368 milioni. Immaginate quanti posti di lavoro, quante scuole ristrutturate, quanto ha rubato dalle tasche dei cittadini italiani onesti. E quindi credibilità zero. Da un'altra parte abbiamo Renzi che mette il canzone Rai, scusate se rido, ma bisogna ridere per non drammatizzare, in bollette elettriche tutti noi cittadini onesti, normali, abbiamo visto quanto sia aumentata e poi oggi in campagna elettorale dice di volerlo abolire. Noi abbiamo fatto alcune cose da opposizione. Ovviamente non abbiamo fatto tutto perché l'opposizione, voi sapete che non ha tante possibilità di approvare le leggi, di portare in Parlamento. Ma senza le tessute, noi abbiamo detto che non accettavamo i finanziamenti pubblici, non ci credeva nessuno. L'abbiamo fatto. Ci dimezziamo lo stipendio? Non ci credeva nessuno. L'abbiamo fatto. Abbiamo fatto aprire 7.000 imprese con i soldi di stipendi che ci siamo dimezzati e solo per fare due esempi... Toninelli, scusi se la fermo e ritorno alla grettezza della domanda e dell'argomento. Chiedeva il collega dove le trovate le risorse per il reddito di cittadinanza? La domanda non era gretta, scusa Giumacca, è una domanda precisa. No, no, la domanda è assolutamente pertinente, però è giusto dire che non è vero che così fanno tutti. Se si è stato qualcuno il sottoscritto ha restituito 450.000 euro. Sa cosa è che fanno tutti? Non rispetto al passato, intendevo dire, rispetto a come viene impostata questa campagna elettorale. si parla tanto di tasche dei cittadini, questo è comprensibile, sono tutte promesse un po' spot. Tutti quanti dicono... Sì, no, ma ho capito, però... Ti prometto di trattarti più soldi per la pensione, lo fate anche voi, il reddito di cittadinanza, ti levo il canone, università gratis, tutti la stanno giocando un po' così questa campagna elettorale. Sì, no, ma io capisco, ma dai cittadini provo lo stesso fastidio che provate voi, eh, perché io ho visto sulla mia pelle le menzogne in Parlamento, i vitalizi, voi sapete che cosa sono? Il vitalizio significa che tu non sei una persona come le altre. Però stiamo sulla campagna, stiamo sulla vostra, rispondi alle mie domande, sennò poi diventa subito un comizio e non ci interessano i comizi qua. La domanda è dove trovate le risorse per il reddito di cittadinanza, ma poi come lo strutturate davvero questo reddito di cittadinanza? Lo dico subito, il mio non è un comizio, ma è una constatazione di fatti, comunque sia. Il reddito di cittadinanza è già stato depositato come proposta di legge cinque volte in tutte le leggi di bilancio di cinque anni, che è la legge e la ex legge finanziaria, quella che riguarda il bilancio dello Stato, che è sempre stato certificato e dalla Commissione Bilancio e dalla Ragioneria dello Stato. Prima di tutto interveniamo sul taglio di alcune spese dei grandi sprechi, sugli sprechi nella pubblica amministrazione, abbiamo messo dei meccanismi che riattivano la digitalizzazione della pubblica amministrazione, vale miliardi di euro, tagliamo le pensioni d'oro o sopra i 5 mila euro, tutta una serie, tagliamo ad esempio una parte delle spese militari, tutta una serie di coperture che ci sono state certificate, quindi non è tanto dove trovi i soldi, il Partito Democratico e la maggioranza hanno trovato 20 miliardi per salvare un paio di banche, le hanno trovati dalla mattina, dalla sera per la mattina, è volontà politica. Cioè i soldi ci sono stai dicendo? I soldi ci sono, dipende dove vuoi, come vuoi utilizzarli. Se l'Italia oggi purtroppo in Europa ha il maggior numero, quindi quanti, qual è il paese con il maggior numero di poveri? È l'Italia, come puoi non intervenire su quelli in un paese dove c'è la crisi dei consumi, cioè la gente non ha i soldi per comprare le scarpe, per comprare un maglione, per comprare cibi proteici, l'idea a quella classe, a questi tantissimi italiani, 30,5% degli italiani sono a rischio povertà. Prendi una multa per dire che il sosta qual mese non arriva alla fine del mese. Se gli dai i soldi a questi qua ma li metti in un circuito economico, non è assistenzialismo questo perché se io dovessi perdere il lavoro e beneficio del reddito di cittadinanza devo andare tutti i giorni all'Agenzia per l'Impiego, le ristrutturiamo da capo a piedi perché investiamo 2,1 miliardi di euro. Mi formo, creo un profilo, partecipo con l'Agenzia per l'Impiego per cercare il lavoro, faccio lavori socialmente utili, cioè nel senso vado a tagliare l'erba che ne so nella scuola dell'asilo di mio figlio che serve una mano e quando ricevo la chiamata perché ho trovato lavoro, se lo rifiuto la terza volta perdo il diritto al reddito. Per concludere, questo vale anche per i pensionati che si chi sta sotto i 780 euro che sono la cifra sotto la quale l'Eurostat non il Movimento 5 Stelle e dice che sei povero significa che ti integriamo alla pensione fino a quella cifra. Ovviamente non devi ne andare all'Agenzia per l'Impiego nient'altro. Occhio che Berlusconi propone mille. Occhio che Berlusconi propone mille. Ma Berlusconi non esiste. È un paese che non fosse stato devastato culturalmente da gente come Berlusconi. Uno come lui che ha fondato un partito insieme a una persona condannata per concorso esterno in associazione mafiosa che aveva un mafioso come stalliere. E chi ha frodato il fisco signori miei la super evasione fiscale i grandi evasori sono quelli a causa dei quali oggi le tasse per i cittadini normali come noi sono altissime perché trasferiscono le sede legali in queste paradisi fiscali e trasferiscono in fondi neri cioè i soldi per cui che hanno guadagnato senza pagare. Toniele la fermo un secondo per non rischiare di parlare troppo di Berlusconi visto che stiamo cercando di capire quali sono i cardini del programma del Movimento 5 Stelle allora siamo andati a vederlo il programma del Movimento 5 Stelle proprio nel sito del Movimento Movimento 5 Stelle punto it e a proposito di risorse a proposito di economia e anche maliziosamente di similitudini con Berlusconi al punto 3 del programma sulla politica estera si legge un'Europa senza austerità ci spiega che cosa vuol dire perché purtroppo non risulta cliccabile il punto di programma e quindi non c'è l'estensione argomentativa del tema un'Europa senza austerità allora che cos'è l'austerità l'austerità ha significato in questi anni per l'Italia soprattutto per l'Italia purtroppo un taglio della spesa per la sanità un taglio per la spesa per le scuole un taglio per la spesa per la sicurezza e vediamo oggi come siamo messi quindi dite noi i vincoli europei noi diciamo allora se ci dicono e qui hanno ragione che abbiamo un debito pubblico elevatissimo e ci valutano però questo glielo diciamo noi che questo debito pubblico nei 4 anni del governo di centro-sinistra è aumentato di più di 200 miliardi significa che la politica della socialità è sbagliata come abbassi il debito pubblico con investimenti ad alto moltiplicatore non noi ma le associazioni industriali di categoria ci dicono che se tu investi un miliardo in opera come la riqualificazione energetica degli edifici o contro il discesso idrogeologico cioè metti in sicurezza i territori terreni che se no franano sulla testa di alcuni che abitano in montagna ci sono 18 mila posti di lavoro però Toninelli questo attiene le politiche economiche il punto di cui sopra sta nel programma di politica estera quindi un'Europa senza austerità vuol dire andare a chiedere la rinegoziazione dei vincoli europei significa rimettere in discussione la presenza dell'Italia all'interno dell'Europa e della comunità economica stavo proprio arrivando a questo la mia era una premessa allora voi avete ascoltato che Moscovici che è un commissario europeo ha detto quando Di Maio ha affermato è giusto fare investimenti e l'alto moltiplicatore si indica soldi pubblici investiti per creare lavoro ha detto che è una cosa completamente fuori da qualsiasi logica sapete qual è il paese in Europa che più ha sforato il patto del 313 trattato di Max la Francia poi dopo abbiamo altri paesi poi arriva anche la Germania perché l'hanno fatto perché dovevano creare benessere lavoro nel loro paese noi non vogliamo fare niente di più e niente di meno che hanno fatto gli altri ci vuole questo ci devono dare come si sono presi loro 4-5 anni in cui facciamo investimenti in argomenti come l'ho detto innovazione tecnologica le energie rinnovabili il sessore del geologico e riqualificazione energetica degli edifici crea centinaia di migliaia di posti di lavoro ma li crea stabili li crea forti fa impresa le imprese producono di più assumono di più e si riattiva il circuito economico nel frattempo si abbassa del detto pubblico dopodiché diciamo perfetto siamo ripartiti stiamo andando in quinta ora torniamo sotto il 3% la Francia dal 2009 in poi ha violato mi sembra per di sette volte ci consenta la malizia Toninelli ma su questo potreste trovare un accordo anche con Renzi in termini di richiesta di flessibilità all'Europa si siete abbastanza quasi nella stessa maniera Toninelli e sa che io ho beccato una roba Toninelli nel vostro programma che secondo me Berlusconi quando la legge dice io questi qua li voto meno tasse meno tasse più qualità della vita e soprattutto inversione dell'onere della prova il cittadino è onesto fino a prova contraria guardi che Berlusconi vi vota con questa roba no sul fiscal compact volevo dirvi di Renzi che no no ci dica del 5 stelle ma ci dica ma no ma perdiamo tempo poi non ci parla di lei hai ragione hai ragione su questo su questo notasso qua tra un po' presenteremo il programma fisco il programma fisco in cui non proponiamo ovviamente la flat tax che è chiaramente incostituzionale quella di Berlusconi che era proposta a vent'anni oramai o anche della Lega perché la nostra Costituzione ci dice che si deve essere proporzionalità nell'imposizione fiscale cioè se guadagni un miliardo di euro all'anno non puoi pagare il 23% come una qualsiasi altra città 10 mila euro all'anno mi pare normale si chiama progressività che impone la nostra Costituzione noi andiamo a rimodulare le aliquote IRPEF andando ad aiutare principalmente il ceto medio che è il ceto che è stato più danneggiato dall'incapacità di gestire la crisi economica dei nostri governatori ma soprattutto quello che è strettamente collegato col meno tassi è la ripartenza del circuito economico con gli investimenti di cui dicevo prima e con maggior posto di lavoro è lì che vai a scardinare il sistema le tasse aumentano le pensioni diminuiscono perché ragazzi sono pochi cittadini sempre meno cittadini che lavorano o sempre più lavori precari l'Istat ti dice che sei un lavoratore italiano ci hai lavorato un'ora in una settimana ma stiamo scherzando sei un poco più di uno schiavo sì un'ora a settimana è finto insomma non è posto di lavoro questo lo speò benissimo un tema che sta molto a cuore ai nostri ascoltatori ce ne sono tanti però scegliamo questo perché è argomento anche di stretta attualità purtroppo per certe sparate razziste è quello dell'immigrazione che idee avete voi per affrontare il tema dell'immigrazione? l'idea è quella semplicemente di rispettare le regole e di farci rispettare in Europa l'immigrazione uno non è un problema italiano due in Italia è stato gestito come un business vi ricorderete i buzze carminate che affermavano che del business degli immigrati si guadagnava di più della droga vi ricorderete gli indagati del cara di Mimeo centro di accoglienza richiedenti asilo in cui praticamente li hanno indagati tutti dove il partito di Alfano aveva percentuali di consenso al 50% chissà perché gestiva il cara di Mimeo quindi la prima cosa l'Europa deve gestire l'immigrazione come un problema europeo oggi l'Italia da sola spende 5 miliardi di euro all'anno per gestirlo e l'Europa fa rimanere in Italia sulla base di un regolamento scellerato votato anche dalla Lega oltre che da Forza Italia dal PD che dice che chi viene il paese di primo approdo cioè l'Italia è quello che deve gestire tutto e questo è un disastro quindi in Europa ci devono dare una mano questa è una delle prime cose che faremo nel caso in cui andassimo al governo e i cittadini ci dessero fiducia se l'Europa ma non penso che lo faccia ci dirà ce ne freghiamo sono affari vostri mettiamo i muri i confini dell'Austria della Francia e quant'altro noi chiediamo parecchi miliardini di euro di soldi pubblici di cittadini italiani all'Europa nel fondo salva stati che fondamentalmente è stato fino ad oggi un fondo salva banche tedesche e francesi molto esposto in una crisi greca noi diremo signori me ecco i 5 miliardi di euro all'anno che spegniamo per gli immigrati siamo obbligati a tenerceli in cassa nelle casse degli italiani dell'Italia Toninelli siamo in chiusura per cui le faccio un'ultima domanda le chiedo una risposta telegrafica perché siamo davvero molto in ritardo ancora di politica estera ometto il punto 9 del programma che dice risoluzione dei conflitti in Medio Oriente che mi sembra un po' impegnativo è un po' come la pace nel mondo per certi aspetti e invece le chiedo qualcosa a proposito di punto 10 e punto 7 che stanno insieme punto 10 nuovi scenari di alleanze per l'Italia punto 7 Russia un partner economico e strategico contro il terrorismo l'Italia deve guardare la Russia di Putin e sarà il nostro futuro alleato con un governo 5 stelle? Allora non c'è tanto di parare di alleati l'Italia perde circa 2 miliardi di euro all'anno di esportazione da parte dei nostri piccoli 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 medie imprese perché perché la Russia è stata sanzionata dall'Unione Europea su spinta dagli Stati Uniti noi vogliamo cooperare collaborare con tutti i paesi europei non considerare la Russia come uno dei principali partner che deve sedere i tavoli internazionali nella gestione delle crisi internazionali in particolare anche la crisi del Medio Oriente è pura follia quindi noi diciamo che nonostante ovviamente non critichiamo dei grossi errori che ci possono fare in Russia ma pensare di poter trattare non trattare con la Russia tra l'altro non farlo ripeto ci porta 2 miliardi euro all'anno di perdite è una pura follia quindi l'Italia deve incidere più su quei tavoli internazionali e far valere che cosa? Quello che fa Macron in Francia e la Merkel in Germania è far valere gli interessi degli italiani Occio che anche Berlusconi con Putin ha sempre avuto un ottimo rapporto se non ricorda il lettone Allora io vorrei dimenticarmi No era una battutaccia infatti non era una domanda era una battutaccia di chiusura per chiudere Ambrosio siamo davvero in chiusura Toninelli grazie per essere stato con noi e per averci dato un po' di spiegazioni su alcuni punti del programma che ovviamente poi trovate nel sito movimentocinquestelle.it buona campagna elettorale grazie buona giornata e magari ci risentiamo risentiamoci presto grazie buona giornata con piacere grazie arrivederci